Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la videoanalisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è mercoledì 24 gennaio 2024, il focus di oggi è su Wall Street. Al solito vi ricordo di seguirci sul nostro sito www.tradingfacile.eu qui trovate tutti i nostri trading system automatici oltre a tantissime guide e materiale gratuito per conoscere tutti i nostri servizi e il nostro modo di fare trading. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, seguirci quindi sul canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram. A breve ripartirà la stagione dei webinar gratuiti, quindi mi raccomando tenete monitorate le pagine appunto del nostro sito per trovare i link che verranno a breve pubblicati per iscrivervi appunto agli eventi gratuiti. Avremo tante novità quest'anno, quindi mi raccomando tenete monitorato il nostro sito oppure attivate le notifiche per quanto riguarda i nostri canali social. Il tema di oggi, come detto, Wall Street, quindi cerchiamo di fare il punto della situazione sull'azionario americano. Azionario americano che ha rotto questa fase appunto di lateralità che aveva caratterizzato la prima parte del mese di gennaio e andando a fare nuovi massimi, sia per quanto riguarda SP500 sia per quanto riguarda Nasdaq. Unica nota appunto un pochino stonata è il Dow Jones che in questo momento mostra un pochino più di difficoltà ma poi magari lo vedremo nel dettaglio. Quindi come detto, investitori che sono tornati a sostenere l'azionario americano, quindi economia americana che continua a mostrarsi forte e quindi da qui appunto la volontà degli operatori di tornare a sostenere l'azionario. Azionario americano che con la sua nuova salita sta sostenendo di riflesso anche una salita in Europa, quindi quello che vedo in questo momento è ancora un'America piuttosto forte e un'Europa che segue in scia. Quindi sotto questo punto di vista abbiamo visto rompere, come detto, quest'area di lateralità anche se va detto che non tutti i listini, non tutti i comparti stanno salendo allo stesso modo perché comunque a farla da padrone è sempre e comunque il Nasdaq. Quindi settore tecnologico che sembra essere appunto ancora quello trainante per quanto riguarda gli acquisti, quindi il comparto tecnologico viene ancora sostenuto a tutti gli effetti, molto meno invece per quanto riguarda, come detto, i comparti tradizionali, quindi ad esempio i settori value, quindi quelli che tipicamente sono ad esempio all'interno del Dow Jones fanno un pochino più di fatica, quindi scomparto growth che sta continuando a sovraperformare il comparto value. Attenzione perché oggi pomeriggio avremo il rilascio appunto di dati importanti in ambito macro, quindi sono in arrivo i PMI sia per il settore manifattura che per il settore servizi e quindi vedremo se questa prospettiva di crescita e di economia forte per quanto riguarda gli Stati Uniti verrà confermata o meno e quindi attenzione perché in caso appunto di dati deboli potremmo appunto secondo me osservare uno storno appunto dell'azionario mentre invece dati forti secondo me alimenterebbero ancora una prospettiva appunto di crescita e questo appunto sembra essere il driver che sta sostenendo con maggior forza i rialzi sui listi nazionali quindi in caso appunto di dati forti a mio avviso potremmo osservare un'ulteriore estensione del rally. Detto questo andando a cercare di capire dove focalizzarci in ambito operativo magari partendo da SP500 va detto che essendo il mercato su massimi storici ci sono pochi riferimenti come spesso accade in questi casi però a mio avviso appunto ci sono dei livelli che dovremmo monitorare con maggior attenzione se e qualora il mercato ce ne darà appunto occasione questo perché cercare di acquistare e rincorrere appunto un mercato acquistando appunto questo SP500 sui massimi rimane in questo momento comunque una strategia pericolosa questo perché è vero che il mercato è nuovamente impostato al rialzo però è un mercato che comunque rimane troppo a mio avviso troppo tirato e quindi il rischio poi di assistere a degli storni è sempre dietro l'angolo se andiamo ad esempio ad osservare l'andamento della volatilità implicita che sappiamo notoriamente inversamente correlata all'andamento dei listi nazionali vedete che la volatilità implicita questo per quanto riguarda il mercato americano è ritornata sui livelli pre-covid quindi siamo comunque sia su livelli minimi appunto di volatilità implicita e attenzione perché molto spesso da questi livelli vedete che si osservano delle risalite anche importanti della volatilità implicita e questo significa appunto di contro vendite sul mercato azionario questo chiaramente non significa che da qui in poi il mercato azionario andrà a stornare in maniera violenta perché vedete che comunque il VIX può stazionare questo è un grafico settimanale quindi vedete che il VIX può stazionare anche per diverse settimane appunto su livelli appunto di volatilità minima però comunque sia occhio perché siamo comunque su dei minimi importanti questo che cosa significa? come detto significa che il mercato è un mercato comunque tirato e quindi a mio avviso secondo me è meglio aspettare appunto di avere il ritest dei supporti quantomeno di breve per cercare di rientrare appunto long quindi sicuramente in ottica di brevissimo respiro i livelli che monitorerò con maggiore attenzione sono 4890 per l'SP500 mentre più in basso troviamo a 4835 qui vedete che tra l'altro c'è un pivot importante in area 4800 punti che è anche un po' il livello mediano appunto di questa area di lateralità e quindi occhio perché se dovessimo tornare sotto 4800 punti a quel punto ci sarebbe spazio per un ritest di 4750 e di quota 4700 punti a mio avviso questi sono comunque i livelli che dovrebbero tenere a galla il mercato e dove appunto valuteremo eventuali appunto la formazione di eventuali basi di accumulo per rientrare appunto long in ottica di brevissimo invece respiro ci sono due aree secondo me molto importanti per rientrare appunto in un'ottica un orizzonte un pochino più di lungo periodo e sono quota 4570 e poco più in basso 4430 questi sono secondo me i livelli che in ottica multi day rappresentano delle ottime occasioni per rientrare a mercato sempre long per quanto riguarda il Nasdaq il discorso è più o meno analogo qui è importante sottolineare lo dicevo prima come non essendoci riferimenti dato che il mercato è sui massimi storici quello che potremmo andare a guardare sono riferimenti appunto dei pattern dell'analisi tecnica qui vedete che possiamo a tutti gli effetti classificare questa gamba dato che appunto è una gamba che è andata ad aggiornare i precedenti massimi storici e quindi potremmo classificarla come l'inizio di un nuovo impulso a rialzo impulso a rialzo che tipicamente è composto da una prima gamba rialzista a cui fa seguito un'area di lateralità quindi questa a tutti gli effetti è una figura di continuazione e poi da qui in poi ci si attende una nuova una seconda gamba rialzista che tipicamente ha la stessa ampiezza della precedente questo ci porta a ipotizzare un target abbastanza ambizioso per quanto riguarda il Nasdaq che è posizionato a quota 18.180 punti è un target che ripeto potrebbe sembrare diciamo ecco anche a tratti inverosimile se guardiamo appunto quanto è tirato il mercato e quanta incertezza ancora c'è per quest'anno sull'andamento dei listi nazionari però occhio perché siamo in piena stagione delle trimestrali trimestrali che fin qui hanno regalato soddisfazione appunto ai titoli maggiormente capitalizzati e occhio perché ripeto quello che vediamo è comunque un comparto dei tecnologici che continua ad essere sostenuto a piene mani e quindi magari ecco forse non 18.000 punti però magari ecco un test dei 17.750 17.900 punti potrebbe essere un target tutto sommato verosimile per questo mercato per quanto riguarda anche qui i supporti da monitorare primo livello è quota 17.540 più in basso ancora più importante troviamo 17.440 e 17.360 qui secondo me dovessimo mollare quota 17.440 ci sarà spazio per vedere appunto un test dei 17.360 mentre più in basso troviamo 17.250 17.220 due supporti molto vicini anche qui chiudiamo con un'area invece da monitorare in ottica di più ampio respiro e quindi insomma ecco per investimenti su un orizzonte temporale un pochino più di medio almeno periodo qui il livello di supporto principale da monitorare è costituito dai 16.900 bene andiamo adesso a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di ieri dai nostri trading system iniziamo da una strategia bias sul DAX strategia che abbiamo già visto diverse volte è una strategia che a determinate condizioni va ad acquistare il mercato dopo la chiusura della sessione cash quindi dopo le 17.30 ieri appunto siamo entrati long a mercato operazione che è stata poi chiusa questa mattina alle 9 con un ottimo gain perché parliamo di oltre 130 punti di DAX tante operazioni aperte anche in questa mattinata qui vedete ad esempio un'operazione long aperta da un differente trading system è un'operazione in questo caso di tipo trend following data la forza del mercato in apertura e quindi qui l'operazione è ancora a mercato vedremo questa sera dove appunto chiuderemo questa invece è un'operazione aperta è ancora a mercato aperta questa mattina sul gold ve la faccio vedere perché il mercato del gold è un mercato che si è mostrato piuttosto contrastato nel corso delle ultime sessioni però occhio perché è atteso appunto un ritorno della volatilità a mio avviso maggiori le probabilità che il mercato vada a riprendere è un trend di tipo long quindi qui vediamo una posizione aperta questa mattina su questo break di volatilità anche qui vedremo poi come verrà chiusa a fine giornata qui vediamo invece un'operazione long di brevissimo respiro questo è un sistema che lavora scalping sul Nasdaq e anche qui un'operazione aperta e chiusa nel giro di pochissime ore l'ultima operazione che vediamo è invece un'operazione short aperta da un sistema in questo caso lo vedete qui di tipo reverting sul crude oil quindi in questo caso un sistema che tipicamente va a vendere la forza e acquistare la debolezza e quindi operazione che è stata in questo caso short che è stata aperta in area 74,90 e chiusa in area 74,30 qui vedete una nuova invece operazione che è stata aperta questa mattina e quindi anche qui una nuova operazione short vedremo in questo caso anche qui l'evolversi della posizione bene anche per oggi è tutto io vi ricordo il nostro sito www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciolatradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trailing e buon trailing grazie a tutti